Musica La seconda volta che vengo a Sovoli a presentare i miei libri e ogni volta torno con estremo piacere Sovriana è un posto importante per la Calabria Rubettino Editore è un punto di riferimento per chi fa dei libri, per chi ama i libri e soprattutto sono contento di essere qui nella biblioteca di Mario Caligiuri che anche lui è un punto di riferimento per chi si occupa della Calabria e della letteratura Oggi abbiamo presentato il mio ultimo lavoro a punti di meccanica celeste una storia come la prima ambientata a Giri Falco in cui sette personaggi che vivono una vita sospesa trovano una piccola rivoluzione nelle loro esistenze grazie all'arrivo di un circo che offre loro una seconda possibilità di destino una seconda possibilità per vivere quello che hanno sempre sperato e desiderato in fondo grazie a tutti Grazie a tutti